Colpo di scena sul regolamento comunale di Selvazzano dentro per sale giochi e locali con slot machine. Il Consiglio di Stato ha capovolto la decisione del Tar del Veneto che un anno fa aveva bocciato le nuove disposizioni ritenendole talmente sproporzionate da precludere quasi ogni attività di gioco sul territorio comunale. Il Consiglio di Stato viceversa ha riconosciuto sul tema un'ampia discrezionalità del comune e il cosiddetto distanziometro di almeno 500 metri da siti ritenuti sensibili nel contrasto alle ludopatie come una decisione adeguata alla consistenza del problema.